Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Santi e sono di San Fichè. Guardate all'interno di questo condizionatore cosa c'è. Io ho paura. Un'ancinante. Guardate. Guardate la schifezza che c'è all'interno. Guardate la polvere. Ci preoccupiamo tanto di metterci la mascherina quando usciamo di casa. Ma secondo me dovremmo preoccuparci di quando accendiamo il condizionatore in casa. Quindi ragazzi, quello che voglio dirvi è questo. Se pensate che noi siamo qui a prendere in giro le persone, state sbagliando. Per chi non ci crede, sta sbagliando. Io quello che dico sempre, prendi la torcia del tuo telefono, punto da sotto qui e vedi quello che c'è. Troverai sicuramente una sorpresa. Guardate. 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 ragazzi stiamo parlando stiamo parlando stiamo parlando io vi saluto ragazzi e mi raccomando sanifichare aria sana per vivere meglio il nostro numero è 0287178463 ciao